ma benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video da The Brothers io sono Jaguars e qua cominciamo Herox Creeper belle ragazzi what's up ok vengo alla tua altetta si jog oh mio zio su portal pure su portal oh mio dio everywhere questo cosa fa? no perchè si è bloccato cosa? ah cos'è sto lag? oh mio dio si è bloccato tutto eh lo so ho visto aspetta un attimo ok ragazzi siamo ritornati ho riaviato fraps per sicurezza se... perchè qualche volta quando si blocca mi da il... la voce in ritardo allora ma abbiamo sistemato ah ok tu devi andare di là si non schiacciarmi si vai vai prima vai di là vai di là non ti faccio niente sei sicuro? ok ora 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 oh cazzo mi stai schiacciando scusa ahahahah ahahahah vabbè vai 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 via un attimo ah qua non c'è qualcosa oh mio dio non ho capito cosa ho fatto ma vabbè sper ok ora vai più sotto ah sono arrivato no 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 so per so per so bravo dove so vai vai di là dietro vai di vai dietro devi andare lì ah tu si vai qua irox vai qua bravo ok ora sali lì ora prendi quel cubo ah ciao cubo c'è qualche stanza lì o devo rifare tutto? devi rifare tutto vai giù dai oh god questo era quel tempo non lo so non chiedermelo aspetta aspetta fermo 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 così fai d'altro lì vai cadici fermo oh eheh per prendere quello sali abbassa fermo perfetto sali ciao cubo ok tac 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 sali su cubo ok andiamo a posizionare costa merda di cubo dove acqua fammi 1 ok viene perfetto yeah intanto i il telefono cos'è con la roba lì in cima l'interessante schiacciare g3 cosa c3 g3 è il tasto in mezzo del mouse aspetta 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 oh cos'è atlas pibodi no no io voglio pibodi aspetta un attimo con laser crash acqua ora mi dice le mappe così me le ricordo no sono atlas che schifo ah no ah questo è il zoom chi figata aspetta allora che ma passiamo ora calling maps deve essere questo ora e deve essere cope laser crusher vabbè deve essere questo così me lo ricordo almeno credo c'è cosa hai fatto ok jug toccate andare sotto i ferri vai jug è pronto ah ad ora ora forse è questo qua si no 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 alza 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 mio dio ero 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 aspetta aspetta so cosa fare so cosa fare così se faccio così no 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 fai questo qua fai questo qua capito e io devo andare di là capisce ho lo più boss vai 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 no 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 continua 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 aspetta io nessuno per ljar bella 0 quale ora di fare questo so ok pronto Ti faccio schiacciare Jugg Oh mio dio no Oh my god Ok Jugg ora schiacciati E' una cosa Epica Ok ora cosa bisogna fare Jugg Fammi un portale Ultimo Dove te lo faccio Vai lì Ah devo andare fino lì Fammi capire Attiva quelli e vai da solo Devi andare lì praticamente capisce Schiacciatab Ah di figata vedo te Non so Non so Così gli altri possono vedere anche Cosa fai te Io a bici Vabbè Di là va di là Guarda cosa fa Guarda cosa fa ragazzi Ma mamma mia Essere lesi Essere lesi è una mia specialità Ok cosa bisogna fare Perché ci smontano ogni volta Cioè non ci possono mettere interi no Appunto Di là porta Ecco Un console no sense Che si apre Ti si è aperto la console Si Ma no Allora Ora è questa mappa MP co Team Team BTS Team BTS Cos'è? Oh cos'è? Questo cos'è? Oh mio addio Oh god Tu dove sei Ah ti vedo No non salutare vai avanti Ci farei vero Che ci facciamo qua Non chiedermi Inizia a diventare Tetro Io non vedo niente Aspetta Luminosità Io la vedo tutto bello Andiamo Dove andiamo Appunto Ah Aspetta Qua Vedo una cosa Dove cazzo bisogna andare? Fare portali così non c'è senso Forse di qua No 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 va via Sì Sì ti torna dietro Aspetta Forse di là Forse di là E' come una testa Sei io dove Ah visto Vai Ok Sarebbe che Utilizzo il suo portale Ecco Ops Insert disk Insert disk E dove? Dove il disk Cerca il disk More disk Ah non è qua Non è qua il disk Cerco Ho fatto una cosa Aspetta Ho attivato qualcosa Ah ho capito 3 2 1 vai Tiro giù Ah ok Tendi al conto alla rovescia Aspetta 3 2 1 vai Stai scherzando? Aspetta Allora 3 2 1 vai Ah Bastardo Cos'è vai? Riprova ancora Riprova ancora Tu riprova ancora Si apre la porta 3 2 1 vai Ah è vero E qua cos'è? Ah il disco Preso il disco? Sì Vieni di qui Vieni di qui Ah Ah Aspetta Aspetta No dove il mio portale ora? Ce l'ho giulato Eh è aperto qua Aspetta come si fa a disattivare tutti i tuoi portali? Ok di quanto è grande questo CD Che cosa è sta roba? Calibrating Non ho mai visto Ma cosa è la mia? No Tuttana Tu se sei Becchi Che basta Se vuoi non sentire l'ora Ne voglio puoi sentire l'ora Non 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 sentire l'ora Cos'è? Ma che cacca? Oh mio dio No Aspetta Perché siamo implosi Non dirmelo non siamo intorno a spiega 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 meno perché non lo so se se voi l'avete visto nei titoli ragazzi mi sono titoli adattato che ci facciamo qua già che già che si è pronta voler giù ci facciamo di nuovo qua c'è gioco ci facciamo qua non lo so ciao 1 per me questo non è neppure ma come mai si siamo di nuovo qua non lo so credo che si si dovrà andare alla prossima prova proviamo il gioco di scuola forse si deve aprire aspetta proviamo prima vieni qua siamo alla 0 1 vai alle camere di smontaggio vai qua vieni qua irox vieni qua vieni qua vieni qua un attimo arrivo cazzo te l'ho detto cinque volte no 2 cos'è quella luce luce ne non so allora aspetta un attimo perchè lì c'è c'è aspetta un attimo tu aspetta e basta credo che tipo devi cambiare mappa appunto nella console vediamo appunto qua siamo ok ragazzi ritorniamo subito appena cambio modo da mappa andiamo nel capitolo numero 2 anzi facciamo capitolo numero 2 nell'altro video ehm non lo saprei facciamo cos'è sto barbello gigante facciamo oi facciamo capitolo per ogni video ok va benissimo vabbè ragazzi ehm chiudiamo qua questo episodio e ci vediamo nel capitolo numero 2 il capitolo 2 sarà molto lungo si ciao 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 ciao